La scuola Malva di Bibiana è un ente morale con la provincia di Torino dentro, questo da 50 anni. Lavora quindi anche a fianco della provincia per tutta una serie di problematiche che connettono l'agricoltura alla città. Tra queste il tema da 4-5 anni della riflessione scolastica, dell'alimentazione infantile nelle fasce giovanili e per la terza età. Come l'abbiamo fatto? Innanzitutto censendo le produzioni della provincia di Torino dal punto di vista ortofrutticolo ad esempio e vedendo se collimavano con le esigenze della riflessione scolastica. Questo l'abbiamo fatto alcuni anni fa ed è servito poi alla città metropolitana di Torino per fare i bandi mirandoli al consumo dei prodotti territoriali. Un settore molto particolare di cui ci siamo occupati in un progetto Interreg di recente è il consumo degli alimenti a scuola nelle pause scolastiche ma anche nei momenti in cui i giovani e i ragazzi sono attori di scelta di acquisto. Abbiamo considerato che quando si va in piscina, quando si va in palestra il distributore automatico è lì ed è l'occasione anche per i più giovani per infilare una moneta e fare una scelta di acquisto di prodotti. Beh purtroppo la scelta che ha a disposizione il nostro mondo giovanile sia a scuola sia appunto in queste pause extra scolastiche non è grande. Perché? Perché questo mondo è in mano a pochi attori, li chiamiamo in gergo tecnico il vending, società appunto che gestiscono grandi o piccole società che gestiscono appunto i distributori automatiche e che ci mettono dentro quello che per loro fa il miglior business, altro che prodotti locali e di territorio. Cercando di ribaltare il problema abbiamo invece verificato con i ragazzi attraverso questo progetto che ha coinvolto molte scuole di Torino e provincia e molti ragazzi attraverso interviste se avessero gradito ai ragazzi altre proposte dei distributori automatici e come se le gradiscono. E come se le gradiscono? Difatti in una serie di esperienze che sono state portate avanti 15 distributori automatici in altre tante scuole con prodotti quali la frutta fresca e i derivati di frutta, direttamente derivati dalla frutta. Quindi cibo bio, cibo pochissimo manipolato, non zuccherato, senza additivi alcuni. Beh, è stato gradito i problemi perché poi queste esperienze non diventano di dominio pubblico ma soprattutto non entrano in tutte le scuole. Beh, l'ho detto prima perché il vending è quello che è, cioè finché non ci sono scelte magari legislative che impongono che questi distributori abbiano prodotti consoni con la salute, non sarà mai così. Altre problematiche che abbiamo riscontrato sono ad esempio quelle relative all'eccesso carico di rifiuti che questi prodotti dei distributori automatici producono. E lì noi stiamo come Scuola Malva cercando di coinvolgere tutta una serie di attori dell'area metropolitana torinese cercando di proporre ad esempio tutte le bevande nel bicchiere, direttamente erogandole dai bag in box e questo significa coinvolgere tutta una serie di attori, dai costruttori delle macchine ai gestori, ovviamente i produttori del cibo. Insomma è un movimento che è in corso e mi soccorre in questo il fatto che l'assessore all'agricoltura del Piemonte Ferrero è il primo firmatario di una proposta allargata a tutti gli assessori all'agricoltura ed Italia per vietare affinché una legge vieti la somministrazione nei distributori automatici di bevande che contengono zuccheri aggiunti, grassi insatoli e trans, sostanze insomma nocive alla salute. Quindi siamo sulla buona direzione e ciascuno per la sua parte.